Sembrava una battaglia persa quella dell'amministrazione comunale di San Giovanni Tettino e di un agguerrito comitato cittadino contro il loro progetto di realizzare un sottopasso ferroviario che avrebbe fatto sorgere un muro in pieno centro. Alternativa a un progetto già ideato in fase di PRG che prevede l'interramento per circa 700 metri del tratto ferroviario che riconsegnerebbe sul piano urbanistico un'ampia area dove ad esempio potrebbe sorgere anche una pista ciclabile. Dopo una serie di incontri con la regione e con RFI ieri vertice chiarificatore e la presenza tra gli altri anche della saga che ha a disposizione un finanziamento di circa 10 milioni di euro dal masterplan per la realizzazione di una stazioncina di fronte all'aeroporto. Il comune di San Giovanni Tettino vince la sua battaglia quindi qui dove ci troviamo nel famoso passaggio a livello di Corso Italia nessun sottopasso ma interramento secondo anche lo studio di fattibilità presentato da RFI. Questo binario scomparirà, ci sarà un tratto di strada cosiddetta verde e i treni passeranno sotto di noi. Ora la palla passa al Ministero dei Trasporti che dovrà avviare un tavolo tecnico e reperire i fondi. E quindi il Ministero dovrà venire a dire intanto e dimostrarci che l'opera è fattibile e quindi tutti gli organi che competono poi per la realizzazione dell'opera, quindi lo studio che verrà realizzato dall'Arta e da altre strutture di sostegno tecnico alla realizzazione di queste opere così importanti e aggiungo anche impattanti perché il mio territorio è un territorio fortemente antropizzato ed oggi modificarlo con una doppia ferrovia significerebbe distruggere quello che è la nostra realtà. Quindi i problemi ci sono. Adesso se questi sono i problemi la salute del cittadino non ha nessun prezzo, sono quello dell'inestimabilità, però vedo lo Stato tira fuori qualche soldino in più, il governo tira qualche soldino in più e realizza l'interramento che restituirebbe a tutta l'area metropolitana, ma principalmente al territorio di San Giovanni Tiatino, una strada verde che collegherà San Giovanni Tiatino a Chietiscalo e a Pescara. Grazie a tutti.